Ragazzi buongiorno bentornati su Crypto Saladio sono Federico oggi è il 29 agosto 2021 bitcoin 48.200 dollari in questo momento guardiamo la chart time frame giornaliero in particolare guardiamo come si stanno comportando le medie mobili rispetto all'andamento del prezzo di bitcoin che tende a lateralizzare negli ultimi giorni. Poi ragazzi parliamo della teoria del super ciclo o anche del super cycle quindi cerchiamo di capire che cosa vuol dire questa teoria magari l'avete già sentita nominare ultimamente come questo super ciclo potenziale di bitcoin potrebbe essere diverso dai precedenti cicli. Quindi ragazzi come al solito se vi sembra interessante lasciate un mi piace iscrivetevi al canale cliccate la campanella per le notifiche e lasciate i vostri commenti ragazzi guardiamo la chart bitcoin time frame giornaliero siamo su Binance e come vediamo stiamo affrontando una fase di lateralizzazione direi consolidamento dopo una fase rialzista che è iniziata con il minimo raggiunto ormai il 20 luglio scorso al di sotto dei 30.000 dollari. La cosa importante è che bitcoin in questo momento sta consolidando al di sopra di importanti livelli di supporto che ha già violato come potenziali livelli di resistenza. Come vedete il prezzo per bene due volte ha rimbalzato in corrispondenza di questa linea azzura sulla chart che è la media mobile dei 200 giorni. La cosa positiva è che abbiamo la linea gialla questa è la media mobile dei 20 giorni quindi la media mobile più veloce è la prima media mobile direi forse più rilevante che inizia a posizionarsi al di sopra della media dei 200 giorni. Quindi il primo segnale che il trend sul time frame giornaliero sta iniziando effettivamente a dare le conferme rialziste che vogliamo. Come ragazzi abbiamo già parlato nell'ultimo episodio abbiamo qui la media mobile invece dei 50 giorni e quando e se dovessimo vedere l'incrocio al rialzo di questa linea rossa con quella azzurra avremo effettivamente una golden cross che è forse l'ultima conferma che aspettiamo sul time frame giornaliero per aspettarci la seconda fase di questo bull market eventualmente negli ultimi mesi dell'anno. Quindi sicuramente importante che bitcoin riesca a consolidare in questa fase aspettando che le medie mobili nel frattempo riescano a raggiungere il livello del prezzo. Quindi se il prezzo si muove troppo velocemente rispetto alle medie deve consolidare affinché le medie possano più o meno raggiungere la price action e gli indicatori possano raffreddarsi in attesa eventualmente del prossimo rialzo. Ragazzi parliamo poi della teoria del super ciclo, il super cycle è stato elaborato da questo ragazzo si chiama Dan Held, è un esperto di bitcoin che spiega i fondamentali di bitcoin, vi consiglio di seguire il suo account twitter. Come funziona questa teoria, cerchiamo di capire insieme che cos'è, fatemi sapere anche che cosa ne pensate se vi sembra plausibile come possibilità. Vi ho portato questa chart per farvi comprendere cosa vuol dire super ciclo. Questa è la chart di bitcoin, siamo su bitstamp, time frame settimanale e le linee verdi che vedete tratteggiate sono in corrispondenza dell'alving di bitcoin. Quindi quando arriva il taglio del 50% del block reward, quindi abbiamo una diminuzione dell'offerta di nuovi bitcoin sul mercato, a parità di domanda il prezzo genera un bull market. Quindi un mercato rialzista, così è stato ragazzi dopo l'alving del 2012, bull market del 2013, dopo l'alving del 2016, bull market del 2017, dopo l'ultimo halving maggio 2020 abbiamo il bull market del 2021. Quindi per adesso bitcoin sembra rispettare una importante ciclicità proprio collegata a questa sua particolarità del taglio del block reward ogni due anni. Quindi il classico ciclo per bitcoin, a differenza del super ciclo, è fatto da momento di halving, una fase di mercato rialzista che in questo momento sembra sì creare importanti ritorni in termini positivi, ma che vanno a diminuire nel corso degli anni. Quindi man mano che passano i cicli, teoricamente sembrerebbe che i ritorni che bitcoin riesce a realizzare siano sempre inferiori. Vi faccio vedere esattamente cosa intendo. Con il primo dall'alving fino al top abbiamo all'incirca un 9000%, con il secondo halving fino al top del 2017 abbiamo un 3000% all'incirca, mentre per adesso bitcoin ha realizzato alla data dell'alving, se arriviamo al top a 64000, all'incirca un 650%. Quindi sembra che pian pianino complice la capitalizzazione, la riduzione della volatilità, i ritorni su bitcoin tendono a diminuire. Non sembrano invece diminuire i ritracciamenti. Per esempio a seguito del top sia nel 2013 che nel 2017 abbiamo osservato un ritracciamento del prezzo pari all'80%. Guardate qui, dal massimo fino al bottom un ritracciamento dell'86%, mentre nel bear market successivo dal 2018 al 2019 un ritracciamento dell'83-84%. Quindi a seguito del top di bitcoin si tende ad osservare un ritracciamento per adesso storicamente dell'80%. Quindi ragazzi, se i due cicli precedenti dovessero ripetersi, potremmo eventualmente aspettarci un altro all-time high per la fine dell'anno, eventualmente inizio 2022, e poi un importante ritracciamento, quindi un nuovo bear market con eventualmente un ritracciamento dell'80% che ovviamente dipenderà da dove sarà il top di bitcoin, che potrebbe realizzarsi intorno al 2022-2023 un nuovo bottom e poi ripartire con un bull market invece a seguito dell'halving del 2024. Quindi ragazzi, questa è la teoria normale di bitcoin che per adesso si sta realizzando. La teoria del super ciclo invece prevederebbe che complice diversi fattori, che poi andiamo a guardare più nel dettaglio con un tweet on-chain, ma è particolare, abbiamo fattori macro come l'arrivo della pandemia, piuttosto che l'espansione della money supply, quindi questi dollari o comunque la valuta fiat che vengono continuamente stampati e quindi vanno a svalutare il dollaro, per esempio questi due fattori messi insieme, secondo Dan Held, potrebbero generare un super ciclo. Che cosa vuol dire il super ciclo? Ragazzi, vuol dire che abbiamo una fase rialzista che è prolungata, quindi che non dura necessariamente 18 mesi a seguito dell'halving, ma può durare più a lungo e i ritracciamenti che ci sono non sono dell'80%, come abbiamo visto nei precedenti cicli, ma possono essere inferiori. Dan Held parla di ritracciamenti al massimo del 50%, proprio come quello che abbiamo visto, più o meno da 60.000 fino a 30.000 dollari. Quindi un super ciclo prevederebbe ritracciamenti inferiori, 50% e una fase prolungata continuativa, quindi senza rispettare necessariamente il ciclo dei 4 anni. E se guardiamo William Clemente, un altro esperto di analisi on-chain, ci sono alcuni dati on-chain che vanno, può essere nella direzione del super ciclo, della possibilità che possa effettivamente arrivare questo super ciclo. Infatti andiamo a prendere questo tweet di William Clemente che dice che se dovesse ricercare una chart a favore della fine dei cicli di 4 anni e quindi con l'inizio effettivamente di un super ciclo, utilizzerebbe questo tipo di grafico che rappresenta in grigio l'andamento del prezzo di Bitcoin, in azzurro rappresenta la illiquid supply shock ratio. Che cosa vuol dire sostanzialmente? Vuol dire la quantità di Bitcoin che ci sono in circolazione che diventano illiquidi, vale a dire la quantità di Bitcoin che sono offerti dal mercato che non sono più liquidi, che non sono più disponibili per essere venduti. Quindi vengono e passano nelle mani di coloro che hanno una storia di odler. Quindi sono dei detentori di Bitcoin che non vendono e hanno una storia di mantenere i loro Bitcoin nel lungo termine. Sostanzialmente non hanno intenzione mai di vendere. E per Glassnode, se non sbaglio, coloro che hanno una storia di odler sono coloro che non muovono i Bitcoin per almeno 145 giorni, se non sbaglio. Quindi nel momento in cui il tempo passa, più Bitcoin passano nelle mani di coloro che hanno intenzione di mantenere per almeno 140 giorni, più la quantità di Bitcoin illiquidi va ad aumentare e quindi non essendoci più disponibilità di Bitcoin vendibili sul mercato, la domanda necessariamente genera un aumento del prezzo. Quindi questa chart, vedete qui, che come questa linea azzurra che rappresenta la illiquid supply shock ratio stia continuamente aumentando, se è uscita da questo canale discendente, direi a partire da marzo scorso. Lui in particolare, William Clemente, dice che a partire da marzo scorso la quantità di Bitcoin che sono diventati liquidi continua ad aumentare e questo potrebbe essere una teoria favorevole all'arrivo di un super ciclo. Esattamente come i fattori macro di cui parlavamo poco fa. Anche Willy Wu, ragazzi, c'è un podcast recente che ha fatto Willy Wu dove parla del fatto che analizzando i dati on-chain sia, in questo momento, la situazione per Bitcoin sia diversa rispetto a quella del 2013. Quindi anche Willy Wu, osservando alcuni dati on-chain, mostra che la situazione non è come quella del 2013 con un primo top e un secondo top a fine dell'anno ma potrebbe essere diversa e quindi forse anche lui ritiene che un super ciclo sia favorevole. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!